Il mondo del mercato che ho sotto casa, buongiorno a tutti, grazie, è perfetto vento bentornati sul mio canale, come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su Instagram, come è salito sotto all'info box e trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social Spacchettamento Yves Roche, era un po' che non facevo un ordine, cioè una bellissima offerta e quindi non mi la sono fatta a scappare, è appena arrivato il pacchetto quindi è un video un po' improvvisato e niente, adesso lo apriamo insieme e vi faccio vedere questa super super offerta se riesco a aprirla ho spampanato tutto aspetta, aiuto aspetta, ammazzate ah, aveva pure il filo qua il filo? cos'è il filo? aveva il filo che tiravi? ah, la carta ce l'abbiamo questo è il contenuto del pacchetto non l'hai fatto vedere bene perché pesa, vabbè comunque c'è questo è bellissimo beauty è una pochette con le piante eh sì, stile tropica guardate che carino è per portare i prodotti al mare la pochettina tropica noi sabato andiamo al mare il mio amato Monoi di Tahiti questa è l'acqua quella profumata scintillante che può essere utilizzata sia per corpo che per capelli, fantastica la usa paiana la usa paiana pure mamma e anche a Maui poi c'erano il super set l'acqua profumata al cocco l'acqua profumata buona l'acqua di cocco se la bevono anche i miei genitori sì al Todis però io non la bevo più buon Dio che buona che ha buonissima mamma mia davvero buona 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 fammi allusare senti quanto è buona eh sì questa la possiamo spruzzare tutti perché è rinfrescante e questi qua se non sbaglio si possono mettere anche dentro il frigorifero quindi poi rinfrescante ha questo effetto anche rinfrescante e può essere utilizzata anche per corpo e capelli è eccezionale io amo il cocco durante l'estate e non solo poi sempre questo super set vantaggiosissimo c'era questo che è lo shampoo e doccia per capelli e corpo sempre al profumo di Monoi quindi è della stessa linea quella del Monoi che amo io per l'estate questo è meraviglioso è un bel formato da 400 ml mamma mia ragazzi quanto è buono lo amo questo invece era il formato da 100 ml spray buonissimo quindi questo è proprio un prodotto per me che fa estate pura invece questo scintillante non ho visto quant'è gli ml sono sempre 100 ml ma quindi questo ne basta è vero pochissimo quindi dura una vita troppo buono questo prodotto lo prendevo tutte le stati non usa paiana si poi questo è un shampoo e doccia al Monoi ah è gigante poi c'è questo invece che è il dopo sole perfetto che mi serviva proprio mi sa che questo lo usa la paiana e maui per lavare i hei hei e pua quindi questo è il latte idratante 3 in 1 perfetto come il dopo sole e sempre al profumo di Monoi meraviglioso e questo è un formato da sempre formato da 200 ml vado a sentire il profumo anche di questo ma oddio che buono vi faccio vedere anche la consistenza mamma mia che profumo buonissimo adoro il Monoi durante l'estate quindi c'era anche questo e poi c'era questo che era gel fresco gambe leggere perfetto d'estate perché appunto vado ad avere questa reazione e le gambe leggere di sgonfiore quelli che hanno la stessa lunghezza che c'è gli stuzzicadenti si, si dà anche la sensazione di gambe più leggere quindi nel caso di gambe pesanti o affaticate con questo prodotto in più sollevarle aiutano a ritrovare tutta la leggera la leggerezza e il loro tono ha una testa o un'ulta fresca si applica sulle gambe per prevenire la fatica o ai primi segnali di stanchezza al suo interno ha eucalipto canfora e mentolo e anche questo è un formato da 100 ml penso 200 ml quindi questo pure è un prodotto perfetto per l'estate ha un effetto molto tantitanto l'ecalipto quindi ha questa profumazione molto mentolata hai detto il potto comunque ha costo gli effetti sempre nello set c'era il mascara nello set nello set c'era intense metamorfosi waterproof mascara del livre src mascara si ma questo qui è un mascara ho preso poi un burro cacao al mango a me pare più rossetto un burro cacao e questi qua del livre src piacciono molto a diego poi io mi sono presa la terra perché mi serviva e mi sembrava un bel colore ma terra il terreno per gli occhi ti sei presa? no bella sì mi piace questo è il colore della terra bello anche il pack incartonato colorato che fa pensare molto molto all'estate ecco ti ho portato il taglierino grazie ma è tra il taglierino ma perché non lo vuoi? perché ho fatto grazie questo qui è un taglierino però è perfetto e questa è la terra sulla pelle adesso qui è un taglierino vedete? ho preso un po' di campioncini di fondotinta che io ogni tanto vi regalo anche quando acquistano su Vintel da me quindi trovate vi ricordo sotto anche il link del mio shop e poi ci sono due regali che mi hanno fatto un regalo a sorpresa e sono queste due scatolette in latta molto carine che possono essere utilizzate per il make up anche per la cucina per mettere che ne so bustine di zucchero bustine di tè insomma e mi hanno regalato anche queste di Vest Rocher poi nel pacchetto ovviamente c'è il catalogo nuovo che mi sembra che partiva da 30 giugno al 29 luglio con le offerte con le offerte del Vest Rocher che ti regala che ti regala c'è la fattura con il bollettino da pagare e tutti i prodotti con la scontistica comunque mi sembra che quel super 7 che vi ho fatto vedere stava a 35 euro o in 90 mi sembra una cosa del genere a 35 euro quindi c'era il mascara l'olio idratante iridescente corpo e capelli lo shampoo d'orso delicato il latte idratante 3 in 1 dopo sole l'acqua corpo e capelli al cocco il gel per le gambe leggere e più la vanity stava tutto 35 euro quindi era una super offerta che non mi sono fatta scappare perché è tutto bellissimo poi in più abbiamo preso la terra che stava a 9,90 e il burro cacao al mango che invece stava a 1,95 euro e poi vabbè ho preso un po' di campioncini che come vi ho detto sono utili sia per me che per trovare i nuovi fondotinta ma che quando fanno qualche acquisto su Ginted io metto sempre qualche campioncino quindi questo era il mio ordine dell'Ivester Rocher ho approfittato appunto di questa super offerta in più c'erano le spese di spedizione gratis e arrivando a 45 euro aveva un 15% di sconto in più se volete entrare in Ivester Rocher me lo scrivete nei commenti e con la mia amica Daniela vi spieghiamo un attimo come fare vi seguirà lei passo passo per entrare appunto nel mondo Ivester Rocher che è il mondo tutto naturale di prodotti di altissima qualità e niente questo era il mio piccolo ordine sono contenta di aver approfittato questa super offerta perché i prodotti almonoi sono estate sulla pelle li amo perdutamente sono troppo buoni quindi in questi giorni poi ovviamente si cominciano ad andare al mare quindi li utilizzerò e anche se questo già lo conosco l'olio scintillante lo prendo tutti gli anni perché è davvero meraviglioso anche per uscire lo metto sulle gambe quando magari porto i pantaloncini sul decoltelli da questo effetto luminoso ma sempre comunque naturale con questo profumo unito poi al profumo limonoi che è estate pure per me è perfetto è un prodotto indispensabile per l'estate è fantastico mi piace tantissimo anche lo spray al cocco per corpo e capelli questo lo metterò al frigo così quando ho voglia di freschezza e il profumo di cocco è perfetto per l'estate per accompagnarci nelle giornate stile è perfetto per tutti i giorni per infrescarsi e per comunque darci questo profumo estivo bello ma comunque siamo più delicati e naturali come è il colore del corpo quindi sono troppo contenta e troppo carini anche i regalini che mi hanno fatto io vi ricordo che se volete entrare nelle diverse persone lo vedete sotto nei commenti e con insieme alla mia amica Daniela anche lei ha un canale qui su youtube vi aiutiamo e vi guidiamo passo passo e questa era una super festa mi fanno spesso di super offerte del genere quindi state sintonizzati mi raccomando io ringrazio la mia amica Dani per quest'ordine per avermi aiutato a fare quest'ordine mi ha avvertito per tempo quando c'era questa bella offerta e ovviamente i prodotti li provo e poi me ne parlo nei prodotti preferiti finiti insomma comunque rimanete sintonizzati sul canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e come al solito io mi invito al prossimo video vi mando un bacio e ciao a tutti dal mondo i vesti rocce ciao 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 Ciao